Adesso passiamo alla regione dove ci illustrerà Valentina Corrado, la sua esperienza all'interno del Consiglio e poi sul territorio. Grazie. Sono consigliere regionale. Grazie a Carla e anche a tutte le persone che ci hanno tenuto ad organizzare questo evento importantissimo perché ci dà la possibilità non soltanto di avere un contatto anche con voi ma di raccontare e di dire quello che il Movimento 5 Stelle ha fatto e non solo detto all'interno delle istituzioni ad ogni livello per quanto riguarda la regione. E poi vi racconterò la soddisfazione invece che da cittadina pomedina, io vengo dalla città di Pomezia che è governata dal Movimento 5 Stelle, abbiamo avuto nel poter realizzare alcune cose proprio a favore delle piccole e medie imprese e proprio perché abbiamo l'opportunità di governare e quindi di poter agire senza dover aspettare che qualche altra forza politica agisca su nostra richiesta. Brevemente, in regione esisteva già un fondo per la piccola e media impresa, un fondo che però era non operativo, non operativo istituito nel 2006, ma non era operativo e lo abbiamo sin da subito capito dalle segnalazioni che sin dal nostro insediamento abbiamo ricevuto dai piccoli e medi imprenditori. Proponevamo noi, così come da promessa in campagna elettorale, di istituire un nuovo fondo per le piccole e medie imprese nel quale ovviamente destinare gli accantonamenti delle nostre indennità. Ad oggi siamo sette consiglieri in regione, sette cittadini del Movimento 5 Stelle e abbiamo accantonato ben oltre 700 mila euro. Ci è stato impedito sin da subito di poter effettuare questa nuova istituzione di un nuovo fondo perché la preoccupazione di chi ci governa e delle altre opposizioni era che alla fine i cittadini avrebbero avuto una lista di persone che agivano nell'interesse collettivo e una lista di chi invece queste cose non le faceva, era l'unica loro motivazione che opponevano all'istituzione di un nuovo fondo. Altra motivazione nel rigettare gli emendamenti ci dicevano, beh ma già esiste il fondo del microcredito nel Lazio, perché ne dobbiamo creare uno nuovo? E allora visto che noi non ci fermiamo di fronte alle difficoltà, in particolare io sono membro della commissione bilancio, nella commissione ho lavorato per modificare quella legge regionale ovviamente raccogliendo i motivi del mancato funzionamento di questo fondo e che cosa abbiamo fatto e ottenuto dopo due anni di battaglie? Abbiamo ottenuto che questo fondo già esistente non sarà più gestito da un ente partecipato dalla regione così come lo era prima la maggior parte siete cittadini laziali, romani, conoscete tutti la società Sviluppo Lazio, ora Lazio Innova questo fondo era gestito esclusivamente da questa società e l'ente regione, benché fosse poi il soggetto che accreditava le somme su questo fondo non ne aveva nessun controllo, così le prime modifiche sono andate proprio nell'ottica di eliminare l'intermediario che era costituito non soltanto da questa società partecipata che gestiva il fondo ma anche l'intermediario che c'era poi tra la società e i cittadini perché i cittadini dovevano rivolgersi comunque ad un intermediario, un operatore territoriale che poi aveva l'esclusivo contatto con un comitato costituito all'interno della regione che faceva da tramite tra la società ente partecipato e la regione e le banche quindi come potete capire il procedimento era abbastanza faragginoso e molto burocratizzato e per non parlare poi della discrezionalità che c'era da parte di questo comitato nel decidere l'istruttoria, nel decidere a chi andava o meno erogato poi il finanziamento quindi eliminato le nostre proposte di modifica che sono state poi accolte che prevedono oggi, com'è oggi il fondo? Il fondo oggi è coordinato esclusivamente dalla regione, dalla direzione regionale competente e abbiamo inserito anche l'obbligo per ovviamente la parte dell'aggiunta di relazionare annualmente alla commissione in maniera tale che anche noi consiglieri possiamo monitorare e capire cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto in merito proprio al funzionamento dello stesso abbiamo inserito un'importante novità che prima non esisteva la possibilità che questo fondo si possa alimentare anche da donazioni o contributi o somme comunque appositamente versate anche da soggetti privati perché altrimenti noi come soggetti singoli privati consiglieri del movimento non potevamo versare le eccedenze delle nostre indennità importanti novità abbiamo introdotto anche per il regolamento abbiamo scritto ci deve essere un regolamento che disciplina il funzionamento di questo fondo e che quindi preveda le modalità di accesso, i criteri, le tipologie di soggetti che possono accedere al fondo che il regolamento deve prevedere le modalità di rendicontazione, di controllo di restituzione delle somme perché il fondo è un fondo rotativo quindi che si autoalimenta e anche i criteri di precedenza all'accesso perché ci possono essere anche situazioni emergenziali che comunque vanno separate quindi abbiamo ottenuto ad oggi l'apertura di un capitolo di bilancio apposito in entrata e in uscita affinché queste somme possano non essere destinate ad altro e stiamo in questa fase chiudendo perché stiamo attendendo che la Giunta ci invii il regolamento sul quale anche noi ovviamente vogliamo dare il nostro contributo posto che gli accantonamenti delle nostre indennità andranno a finire su questo fondo che poi arriveranno a chi farà domanda di accesso questo è quello che accade in regione dove siamo opposizione come vi dicevo io vengo da Pomezia da cittadina a Pometina sono orgogliosa di quella che i miei concittadini che governano stanno facendo per le piccole e medie imprese come comune, come ente il comune di Pomezia come ente dove governiamo dove governa il Movimento 5 Stelle tutti ormai penso che è noto il nome di Fabio Fucci il sindaco di Pomezia dove governiamo anche lì abbiamo risposto con una manifestazione di interesse ad un appello che l'ente nazionale microcredito aveva lanciato ai vari enti, ai vari comuni abbiamo risposto per chiedere che cosa il lente nazionale microcredito dava la possibilità ai comuni di poter aprire uno sportello informativo sul microcredito abbiamo risposto e la sorpresa la nostra sorpresa è stata che pochissimi comuni pochissimi comuni hanno risposto a questa richiesta dell'ente nazionale microcredito questo sta a significare e sta a testimoniare a mio avviso l'importanza, il peso e l'attenzione che un'amministrazione ha nei confronti degli imprenditori e dei suoi concittadini abbiamo risposto e abbiamo ottenuto quindi la formazione di due funzionari dedicati che saranno ovviamente operativi all'interno di questo sportello e questo sportello avrà un compito ben preciso che è quello di creare una rete perché gestirà una piattaforma che si occuperà quindi dell'accoglienza della mappatura dei richiedenti di coloro che richiedono un sostegno e quindi chiedono di avere accesso al microcredito ma farà soprattutto da filo conduttore e aiuterà soprattutto i cittadini in tutto quello che saranno le fasi per costruire per arrivare ad avere accesso al microcredito quindi è anche una sorta di tutoraggio nei confronti proprio dei cittadini che vogliono avere accesso i funzionari e lo sportello comunque questa rete permetterà quindi anche di monitorare di consigliare di aiutare il cittadino ad avere accesso allo strumento più idoneo per le sue esigenze e questo è una cosa importante perché oltre l'informazione c'è quindi la guida e il tutoraggio per le esigenze del soggetto che vuole avere accesso al credito siamo in questo momento in una fase in cui noi siamo pronti il comune è pronto i funzionali sono stati formati stiamo attendendo che l'ente nazionale del microcredito attivi la piattaforma noi siamo pronti attendiamo l'ente anzi cogliamo l'occasione per sollecitare per sollecitare l'ente ad attivare la piattaforma il prima possibile perché noi siamo pronti e già tanti cittadini si stanno rivolgendo ai nostri uffici comunali per chiedere informazioni grazie Valentina